mister buongiorno dove sei? sono in alto buongiorno a lei salve, innanzitutto le chiedo quali sono i rischi di un match difficile come quello di domani contro un'Atalanta che viaggia a gonfie vele e poi l'altra glielo faccio sui possibili sorteggi di Champions League se c'è una squadra che lei preferirebbe evitare agli ottavi di finale allora i rischi in una partita come quella di domani sono tanti perché poi il nostro avversario si chiama Atalanta che significa buoni calciatori che determinano un grande collettivo per cui ci vorrà la consapevolezza di essere una squadra forte anche se anche se da Anfield noi ne usciamo con la certezza di essere qualcosa per cui stessa cosa che diciamo sempre ci vorranno ci vorranno qualità e forza fisica perché loro sono creati in maniera corretta e poi c'è Gasp che è un allenatore un veterano di quelli anche lui terribili no io non è un giochino sbagliato quello di fare preferisco questa o quell'altra perché poi devi sempre passare dalla convinzione di avere delle qualità da mettere dentro la partita e devi pensare che dipende sempre dalla forza che tu proponi dalla forza che tu hai l'abbiamo già detto diverse volte noi non vogliamo giocare partite più facili noi vogliamo giocare partite difficili e avere la forza per affrontarle Sport Italia e si prepara il Corriere dello Sport a prescindere dai rischi per queste ultime tre partite ma quali sono secondo lei gli svantaggi per questa sosta mondiale rispetto a questo Napoli che stiamo vedendo e rispetto anche al fatto che i nazionali che andranno al mondiale potrebbero eventualmente aumentare quali sono gli svantaggi io non ne vedo di vantaggi e di svantaggi perché la dobbiamo passare tutti probabilmente qualcuno ha qualche calciatore in più però poi lì la valutazione si fa non giocare partite di un certo livello a volte si perde di condizione di qualche calciatore invece li rimarranno belli belli carichi anche se saranno fatiche superiori per cui dipende il tipo di calciatore che è quante partite ha giocato andrebbero fatte delle valutazioni individuali e da un punto di vista da un punto di vista nostro non temiamo quel periodo lì perché perché abbiamo una squadra sana abbiamo calciatori che che sanno in base a quelle che sono le situazioni che andiamo a vivere andare a gestirsi andare a a metterci anche un po' di qualità professionale perché poi per essere professionisti al cento per cento bisogna avere anche un comportamento corretto fuori dal campo insomma ecco e noi abbiamo molti calciatori che sono anche allenatori di se stessi Corriere dello Sport e si prepara la Repubblica Luciano Anfield ha detto tante cose ma una su tutte penso poi se sbaglio mi correggi c'è quello che c'è un rispetto nei vostri confronti che non dico è esagerato ma è elevato perché affrontarvi in quella maniera lì quasi snaturandosi testimonia che siete entrati nell'Olimpo dei Grandi Gasperini è uno che ti stima molto e lo sai molto meglio di me e che anche passato ha dimostrato di affrontarti con doveroso rispetto uscire da Bergamo indenni che può significare un messaggio ancora più ampio a tutti? il rispetto bisogna prenderselo quando si va poi ad affrontare partite di questo livello perché perché difficilmente te lo concedono io avevo un po di timore di questa partita perché poi quella di Anfield perché c'ero già stato e perché è una delle squadre che insieme a Simone si guarda di continuo perché perché si dà poi l'idea di quello che è dove sta andando il calcio a guardare queste squadre qui e quindi siamo stati bravi sono stati bravi i calciatori a pretendere questo rispetto anche se poi negli ultimi minuti abbiamo concesso qualcosa però era per la tranquillità ormai del risultato del risultato guadagnato è un altro test quello di Bergamo che assomiglia molto poi a questo qui sarebbe la conferma di aver fatto dei passi in avanti importanti perché anche lì c'è stadio squadra struttura gioco ci sono tutte le componenti da affrontare nella prossima partita però io sono abbastanza tranquillo perché poi ho visto la mia squadra allenarsi anche ieri molto bene e non abbiamo nessun calciatore travestito dal nostro calciatore noi abbiamo tutti corretti per vestire questa maglia qui e corretti per giocare nel Napoli per cui sto tranquillo la Repubblica e si prepara il mattino buongiorno vorrei chiederle che tipo di partita dovete fare domani per mettere in difficoltà l'Atalanta ma non c'è una cosa sola il campo da gioco è talmente grande che le soluzioni sono sempre molteplici per cui bisognerà saper affrontare i minuti della partita in maniera corretta perché ci sarà ci sarà da fare tutto da fare tutto da saper interpretare i cambiamenti che ci saranno dentro la stessa partita e noi abbiamo abbiamo visto che che la squadra sa giocare a viso aperto e sa comportarsi nelle varie situazioni che si incontreranno il mattino si prepara il Corriere della Sera edizione Napoli buongiorno mister visto che parliamo noi dico insomma tanto di questo super attacco di questi grandi numeri del suo Napoli ecco vorrei un attimo invece parlare sulla difesa che insomma già da un bel po' non ha ramani al centro della difesa e con Kim sta diciamo alternando sia Ossigard e Guangesus ecco che tipo di risposta ha avuto secondo me positivo e quanto appunto è importante avere questo blocco granitico difensivo per il conseguimento dei risultati. La difesa è una componente fondamentale per creare poi una squadra forte perché perché ti dà quel sostegno quella quella sostanza che ti permette di di metterci sopra la qualità e di di fare un calcio offensivo perché anche quando vengono lasciati da soli hanno fatto vedere che se la sanno cavare di solito ogni tanto ai difensori si dice se se hai bisogno poi è chiaro che gli si richiede anche agli attaccanti di fare questi rientri che danno un sostegno importantissimo però poi quando giochi a campo aperto te la devi trovare da solo la soluzione con il tuo avversario e noi abbiamo dei calciatori forti sotto l'aspetto della fase difensiva dell'uno contro uno Kim da continuamente prova di di forza di di velocità di di qualità di impostazione di gioco perché ultimamente l'ho visto molto cresciuto quando poi lo vanno ad attaccare con con forza con velocità e lui sposta la palla con naturalezza e va a cercare la soluzione per cui noi siamo siamo convinti di avere un reparto che possa continuare a far vedere tutte quelle belle cose che ha fatto fino a questo momento qui Corriere della Serie edizione Napoli e si prepara Canale 21 Mister siamo stati abituati in questi anni a vedere l'Atalanta come una macchina da gullo invece vai a vedere i numeri quest'anno sesta attacco ma seconda miglior difesa quanto è cambiata questa squadra e come è diverso affrontarla? Il calcio è sempre in evoluzione per cui la dice lunga su quelle che sono le qualità del suo allenatore e probabilmente aveva bisogno di questo perché penso i numeri si guardino tutti e poi in fondo si facciano delle analisi in maniera corretta su quelle che sono le capacità le difficoltà della propria squadra serve lavorare in profondità con serietà e quindi poi avrà trovato delle correzioni io trovo la stessa Atalanta da un punto di vista di capabilità, di ricerca è una squadra pronta a fare all'autoscontro perché hanno centimetri, hanno corsa, hanno qualità e da un certo punto di vista per noi è anche meglio dobbiamo essere di quel livello lì se vogliamo avere ambizioni importanti e quindi anche noi dovremmo essere bravi e capaci di andare a migliorare sempre in quelle cose che vanno migliorate perché tutti hanno delle cose che vanno migliorate Canale 21 e si prepara Canale 8 Salve Spalletti io volevo invece invitarla a fare un commento sul centrocampo, ai ragazzi del centrocampo chi tra tutti quelli in rosa può essere più simile perché di uguali non ce ne sono ad uno come lo vodka per caratteristiche? Noi ce ne abbiamo diversi ce ne abbiamo diversi Demme probabilmente è quello più adatto anche se poi l'ho usato poco un po' è stato questo infortunio che ha subito e probabilmente un pochettino lo penalizza la forza fisica perché poi si dice che ci vuole anche quello lì però per capacità di far girare palla per qualità nello stretto con queste continue serpentine continuo a svincolarsi dagli avversari e dal morso degli avversari è quello più adatto per frequenza di palleggio velocità nello stretto di trovare soluzioni per uscire dall'angusto da quella zona affollata o da quella zona pressata dove tutti gli avversari vogliono andare a riconquistare palla per essere più vicini a far gol però poi ad esempio un Don Belè un calciatore che che gli mancava il fatto del ritmo della partita ma già nell'ultimo ha fatto vedere insomma altre cose nuove cose importanti e in questa direzione delle cose nuove che ha fatto vedere ci vedo anche la possibilità di giocare come play davanti alla difesa insomma ecco poi tutti lo hanno fatto giocare sempre probabilmente un po' più avanti però secondo me Gaetano se avesse la possibilità di fare un po' un'esperienza nel ruolo può diventare un grandissimo calciatore in quella tutti mi dicono che deve stare più avanti deve andare più avanti perché ha confidenza con il gol ha confidenza e quello è chiaro perché è evidente quella quella qualità lì però mi garberebbe vederlo un po' più basso a far girare palla perché lui ha questa frequenza di palleggio questa qualità di palleggio che secondo me lo potrebbe fare avendo anche un po' di struttura e tratto di corsa perché lui i 30 o 40 metri li copre facile con la corsa che ha Canale 8 e si prepara Napoli Magazine Mister il Napoli non si è soltanto guadagnato rispetto perché insomma è evidente però è anche diventato un obiettivo per così dire una sorta di medaglia da puntarsi sul petto per tutte le squadre che vanno ad affrontarle ma questo dal suo punto di vista dal punto di vista anche della squadra della psicologia della squadra che cos'è? è un plus? è un motivo di stress? è una voglia di alzare sempre di più l'asticella? ma la cosa più importante che ho visto dopo la partita è che nonostante sia stata una sconfitta che valesse il primo posto valesse il passaggio del turno la squadra aveva c'era rimasta male aveva l'amaro in bocca cioè dentro lo spogliatoio in aereo dopo nel tragitto per tornare a casa nessuno aveva voglia di festeggiare per quella che era la bellezza del traguardo raggiunto e questo significa che sentono di poter arrivare a valere quanto gli avversari che avevano davanti in quel momento lì la loro amarezza determina questo che è una cosa è un valore importante Napoli Magazine e si prepara Pianeta Napoli Misteri molti temono che giocando tanto di Lorenzo lo Bottoga possono avere dei momenti di pausa invece forse anche giocando tanto continuano a mantenere uno standard di livello anche considerando poi quella che è la sosta per i mondiali credo che possano riuscire ad affrontare quest'ultima settimana di fatica e poi una piccola parentesi su Benitez abbiamo visto la bella immagine ha riservato delle belle parole per il lavoro svolto Rafa ha lasciato un ottimo ricordo qui a Napoli giocando tanto è chiaro che si corre il rischio in qualche partita di essere sotto il livello che è stato esibito per tantissime partite però è chiaro che mentre in alcuni casi hai la certezza che andando a cambiare poi o perlomeno c'è già stata la controprova che andando a cambiare qualcosa in qualche partita mantieni ugualmente una risposta importante per il ruolo che occupi in altri casi vale la pena di aspettare che sia visibile il momento che devi cambiare e cambi sapendo che uguale sarà la risposta o che probabilmente sarà uguale questa risposta però meglio non azzardarla prima in alcuni casi però noi abbiamo la squadra una rosa completa una rosa una rosa scelta una rosa forte e mi dispiace perché qualcuno poi ad esempio come si è detto Demme lì in mezzo al campo al posto di Lobo o Zanoli al posto di Di Lorenzo perché sono quelli che probabilmente ho cambiato di meno mi dispiace per quelle che sono le situazioni che che stiamo vivendo per loro nel senso che che poi la squadra va bene quel giocatore lì è sempre al top e fino a che non c'è bisogno non c'è l'occorrenza è meglio lasciarlo così ecco in alcuni ruoli secondo me è giusto fare anche così prego ah Benitez è un grandissimo perché perché prima di tutto è una bella persona bella solare bella bella schietta ha conoscenze da vendere per cui è sempre un piacere parlare con uno come lui qui dentro dentro Castelvolturno quando quando si parla di lui lui tutti hanno un ricordo splendido tutti quelli che lavorano qui dentro e questo è significato che lui sa comportarsi anche con le persone che lo circondano che hanno una che fanno un lavoro più comune a quello tanto pubblicizzato e tanto e tanto poi visto in televisione è sintomo di persona seria di persona per bene di una persona che ha grandi valori Pianeta Napoli si prepara Spazio Napoli ciao mister buongiorno a lei lei ha dei giocatori di qualità che la società le ha dato però Panucci ha detto mister Spalletti è uno che migliora tantissimo i calciatori li aiuta a stare in campo dal punto di vista tattico ecco le volevo chiedere da questo punto di vista qual è il calciatore che le ha dato più soddisfazione di crescita seguendo il suo spartito i suoi insegnamenti ma di solito si fa così in questo lavoro qui che a qualcuno si tenta di dire anche qualcosa quello a cui bisogna stare attenti a non peggiorarli perché a volte se non gli si va a dire si peggiorano è una è una valutazione quella lì che io non faccio di andare a pensare chi è che mi ha dato di più o di meno perché prima di tutto bisogna farli giocare per vedere di poter raccogliere il massimo dei calciatori e poi di far funzionare il collettivo perché poi è questa mentalità rivolta al gruppo che poi dà la forza alla squadra dalla forza al gioco di assieme ecco preferisco lavorare con quelli che hanno questa questa visione qui questa apertura a non pensare prima a se stessi e di conseguenza ne viene fuori sempre una risposta interessante da un punto di vista di gioco di squadra spazio Napoli e si prepara Sky buongiorno mister domani per la prima volta Napoli giocherà dopo una sconfitta anche se in influente in questi casi come si lavora sulla testa dei calciatori c'è qualcosa in particolare che l'allenatore dice grazie no quello che che dobbiamo fare è analizzare in maniera corretta in maniera seria quello quello che è avvenuto perché poi deve essere sempre credibile quando vai in riunione con i calciatori e vai a dirgli delle cose io ho imparato a isolarmi dalle vittorie non dalle sconfitte fino a questo momento per cui ancora ce l'ho un pochettino addosso e e questo però se se l'idea è la stessa dei calciatori come ho detto prima che 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 erano dispiaciuti serve ad avere più reazione nella prossima partita è una cosa che va bene è una cosa corretta è una cosa che va bene ultima Sky tra Empoli Udinese andrete su tutto esaurito probabilmente quindi a sottolineare quanto si sia ricreato questo afflato con la gente con il popolo di Napoli come si gestisce all'interno questa passione e i giocatori simbolo che hanno comunque in qualche modo riacceso l'entusiasmo parlo di Osimè e soprattutto di Quara Schelia in cosa devono migliorare come si gestisce si gestisce da sola perché ci serve a noi questo entusiasmo eravamo alla ricerca dal primo momento che sono arrivato qui di avere questa questa presenza visiva a parte i Munacielli perché poi quelli ci seguono sempre anche in trasferta anche nell'ultima partita di Anfield ogni tifoso avversario aveva un Munaciello vicino per tifare Napoli per cui vederli anche è una cosa bellissima per noi una cosa importante importantissima e questo è anche il vantaggio che si ha ad essere allenatori del Napoli e calciatori del Napoli qui si può fare delle cose che vanno oltre quello che è come si diceva per Maradona il talento si vanno a fare delle giocate che una passione un affetto così smisurato poi ti determina anche nelle scelte che fai dentro le partite e calciatori importanti come lei ha citato sanno benissimo che poi avendo più qualità sono quelli che possono dargli ancora più più felicità a queste persone qui e sono sicuro che troveranno delle soluzioni per andare sempre più in là grazie a tutti qualità per